La natura è la casa di tutte le forme di vita e ha i suoi delicati equilibri. I parchi naturali si prendono cura di questa ricchezza e tutelano la biodiversità permettendoci di scoprirla e apprezzarla. Anche il solo passaggio dell'uomo genera inevitabilmente dei disequilibri, alcuni evidenti, altri meno. Tra gli impatti più evidenti che l'uomo può causare ci sono gli incendi, dove come accendi il fuoco può fare la differenza. Questo mi sa che non è il luogo giusto. Bravo, qui va meglio. Mi sa che non è il modo giusto. Ecco, appunto. Altola! Adesso però spegnilo nel modo giusto. Un altro impatto di cui siamo spesso inconsapevoli è il disturbo che generiamo camminando fuori dai sentieri. Molto spesso, senza accorgercene, produciamo dei cambiamenti evidenti e immediati sull'ambiente circostante. Altre volte, invece, il cambiamento non è evidente perché ci sono molti altri mondi oltre a quelli che percepiamo con i nostri sensi. Le attività che svolgiamo all'aperto possono produrre dei cambiamenti. L'impatto che ne deriva dipende dalla frequenza e dall'intensità del nostro passaggio. Per permettere alla natura di continuare a rigenerarsi nel tempo, nei parchi possono esserci delle zone esclusive, in cui l'accesso, anche temporaneo, non è consentito. Siamo parte integrante di un complesso ecosistema, fatto da vaste foreste, magnifiche montagne, limpidi torrenti, sconfinate pianure e placidi laghi. Ambienti diversissimi e incredibili in cui convivono, in un delicato equilibrio, miliardi di forme di vita differenti. L'uomo è solo un tassello, una piccola parte dell'ambiente naturale. Conserviamo la natura, tuteliamo tutte le forme di vita. Potremmo così custodirne la bellezza, conservarne i benefici e consegnarle alle generazioni che verranno. Restiamo in equilibrio.